Salve a tutti dal S del SMT In questa volta sarò da solo Perché è solo un video per annunciarvi che noi Anzi, io e ti faremo un giro a Novegro Alla famosa fiera di Novegro Sabato, quindi fra due giorni Questo video è fatto molto di tardo perché Purtroppo abbiamo deciso soltanto due ore fa Esattamente alle ore 7 e un quarto di sera Di andare a Novegro Poiché M, T e moi saremo a Lucca A Lucca Comics domenica Indi per cui abbiamo deciso di In extremis di andare a fare comunque un giro a Novegro E non avremo le classiche magliette dell'SMT Saremo incivile Indi per cui guardate i nostri video e ricordatevi le facce Vi aspettiamo numerosi Salutateci, fermatevi a parlare con noi Chiedeteci qualsiasi cosa Io comunque porterò delle chiavette USB Che darò, regalerò Alla prima persona, anzi alle prime 5 persone Che urleranno Biru Facendo girare tutta la fia della militaria Indi per cui, cari ragazzi Ci vediamo a Novegro Mua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti